Per l'Organizzazione Meteorologica Mondiale nel prossimo quinquennio, le temperature sul pianeta potrebbero raggiungere livelli record alimentate dalle emissioni di gas serra ed il ritorno di El Nigno. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite c'è il 66% di probabilità che la temperatura media annuale globale tra il 2023 e il 2027 superi di oltre un grado e mezzo i livelli preindustriali. Dall'aggiornamento sullo stato del clima globale si stima anche che almeno uno dei prossimi cinque anni sarà il più caldo mai registrato.